Memushay, partita fondamentale, lo dice la classifica, partita da vincere o al limite da pareggiare? Sì, bisogna fare la nostra partita cercando di vincerla. Anche per loro è la partita fondamentale, anche più di noi, quindi sappiamo chi troviamo in conto. Sappiamo che è una partita difficile, però noi dobbiamo cercare di fare la nostra partita e vincere. Come sta la squadra? La squadra sta bene, sta meglio rispetto a prima e domani dobbiamo confermarla. Una settimana di stop forzata per te per la squalifica a Venezia e hai approfittato un po' per tirare il fiato, visto che non ti eri fermato praticamente mai tra Pescara e Nazionale? Sì, ne avevo bisogno, ora bisogna recuperare tutte le energie per questo finale di stagione che è importantissimo. Qual è la tua opinione sul caso Palermo? La mia opinione è che sarebbe un po' lunga da spiegare, però la faccio breve. Che chi sbaglia o chi ha delle irregolarità è giusto che neanche deve partire il campionato, secondo me, o se proprio ha fatto il campionato, secondo me poi dopo deve pagare. È inutile andare avanti così. L'ultima, lei di Anna, dovessero slittare i play-off, c'è la forte preoccupazione per tutti gli impegni dei vari atleti con le nazionali. La tua situazione qual è? Infatti anche per questa cosa, dicevo, del Palermo, perché se fosse vero poi ci troviamo tutti questi problemi a dover slittare, c'è la nazionale, quindi tutti i problemi su problemi. Infatti è un peccato, queste cose qua vanno risolte prima o se no quando vanno risolte vanno risolte nel breve tempo senza perdere tutto questo tempo. Ma tu rischi di saltare qualche partire in caso? Ma non lo so, perché non si sa neanche quando si gioca, quindi ancora non sappiamo niente.